Presidente Talamoni, cosa significa per l'Assemblea Corsa all'Alleanza con la Regione Sarda nel giorno di Sadiedes a Sardigna? Oggi è qualcosa di importante per noi, perché ci sono relazioni assai anziane e amigizia tra i due buboli e oggi trasformiamo questa relazione di amigizia in relazione di lavoro in comune e quindi è importante essere insieme anche per parlare all'Europa. Dunque passiamo ad altre relazioni che saranno non solo relazioni di comunità disintime ma di noi, di comunità di travaglio e quindi è qualcosa di importante di noi. Può raccontare l'esperienza vincente dei partiti identitari in Corsica con riferimento anche a quanto accade in Catalogna e in Scozia per dirci quanto spazio politico c'è in Europa per le nazioni senza Stato? Allora, di Iperaghi si passano ogni pochi d'affari importanti in Europa, in Scozia, in Catalogna sicuramente, in Corsica è un'esimo mica a subunto, posto che in Corsica il dibattito oggi è un'emica non tra l'indipendenza, è un'esimo oggi a cercare un nuovo Statuto per le nostre istituzioni. Dunque, l'indipendenza per conto nostro, pensiamo che lo sarà un dibattito di dopo, da qui a qualche anno, pensiamo che come in Catalogna, Catalogna finalmente ha budato per un nuovo Statuto, non è tanto, in 2006, e oggi è un problema, non è più, di un nuovo Statuto, di indipendenza. Noi pensiamo che l'indipendenza sarà un dibattito da qui a qualche anno in Corsica di noi.